Musica Benvenuti amici telespettatori ad un nuovo appuntamento con Viaggio e Molise siamo a Macchia di Sernia per il concorso letterario Lucius Calidius ebbene allora venite con noi in questa puntata di Viaggio e Molise Musica 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 Grazie a tutti. 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 Ci sarà anche un super ospite, Edoardo Siravo, attore, doppiatore, regista che conosciamo benissimo, originario di Roccaravindola che leggerà naturalmente le opere dei primi tre vincitori. Sì, abbiamo questo onore di risentire la voce di Edoardo qui a Macchia perché già in passato Edoardo Siravo è stato presente a degli eventi. Quindi ci sarà la sua persona a dare ancora più pregio a questa iniziativa, nonché anche abbiamo Pino Imperatore che è un noto scrittore di scrittura comica. E infatti proprio per questo abbiamo anche da quest'anno inserito una sezione di poesia di scrittura comica. Non solo, c'è anche un'altra novità per quanto riguarda le sezioni? Sì, perché c'è anche la poesia dialettaria, anche quella ha avuto un bel riscontro con tanta partecipazione e con opere veramente apprezzabilissime. Quest'anno il coinvolgimento anche degli studenti e quindi degli istituti scolastici che hanno partecipato, devo dire, con grande entusiasmo. Sì, hanno partecipato anche le scuole, qualcuno addirittura anche da fuori regione. Infatti siamo contenti di primare i ragazzi perché anche loro vanno invogliati ad avvicinarsi al mondo della cultura sentendosi più partecipi, più protagonisti come già in passato è successo. Ricordiamo anche ad inaugurare questa sesta edizione un ricordo speciale, una dedica speciale a un presidente di giuria che fu nelle prime cinque edizioni. Sì, scusate l'emozione però sì, Amerigo Iannacone che è stato presidente di giuria e l'anima di questo premio per le prime cinque edizioni che ricordiamo sempre con cuore. Un verde pradicello, un esiguo ruscello, Rio Bo, un vigile con cipresso, microscopico paese, vero, paese da nulla, ma però c'è sempre sopra una stella che ha un dipresso, occhieggia con la punta del cipresso di Rio Bo, una stella innamorata, chissà se nemmeno ce l'ha, una grande città. Ed eccoci con Edoardo Siravo, attore, regista, doppiatore italiano e naturalmente con piacere anche di origini molisane e quest'oggi qui al premio letterario Lucius Calidius, sempre un piacere rientrare in Molise. Sì, sì, per me è sempre un piacere, poi particolarmente oggi che vengo qui a Macchia di Sernia dove, insomma, ci sono le tracce della mia famiglia, ci sono stati, c'è stato un sindaco che si chiamava Siravo e che era proprio parente mio, poi sono vicino proprio a Roccaravindola, a Venafro, dove ci sono appunto le tracce dei Siravo e a me fa sempre molto piacere ritornare in Molise, anche dall'altra parte ovviamente, sono stato direttore artistico al Savoia di Campobasso, insomma, quando riesco a staccarmi un po' dalle mie cose teatrali e professionali, cerco di, un passaggio lo faccio molto volentieri qui in Molise e poi adesso facciamo questa lettura. Ecco, qui si è staccato per questo momento culturale organizzato proprio da Macchia di Sernia dove appunto leggerà con la sua bellissima voce alcuni dei pezzi, tra l'altro vincitori di questo concorso. Eh beh, sì, facciamo questa, cercherò nel mio piccolo di contribuire all'esito positivo di questa manifestazione che mi sembra molto interessante, che si era per un po' interrotta, no? E adesso ricomincia proprio adesso, anzi poi mi voglio far spiegare un po' che cos'è questo Callidius Eroticus, che vedo lì, che non ho capito che cos'è, quindi imparerò delle cose nuove e, ebbene, insomma, poi ho letto già qualche cosa di questi autori che sono stati premiati, mi sembra un'ottima cosa e, che vi devo dire, è sempre una cosa buona, cercare di fare delle cose culturali e belle, tra altre cose, soprattutto qui in Molise, perché, e poi qui a Macchia di Sernia c'è pure il mio amico Adriano, la quale vado a comprare i miei tartuffi, insomma, mancabile sosta, mancabile sosta, e adesso purtroppo posso mangiare meno, però, per motivi di diete, però, vabbè, Molise in questo senso è poco consigliabile.